eh aveva paura a scendere e che moto seve paurosa tutto al minimo comunque da quando l'ho fatto tagliando è cambiata da così sì la mia me la metti nel coso per favore bravo tira ok grazie dove sono pausto se mi aspetta che non c'è nessuno bello qua cazzo non c'è nessuno ma li facciamo andare in su oggi seguiamo il seme gli piace fare curvette la facciamo andare in su adesso la bottiglia dell'acqua sì si va in su andate e ritorno non c'è nessuno 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 Il nostro corso gratuito è www.mesmerism.info 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 Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.